Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi sono un sacco contenta perché facciamo un video che non ho mai fatto prima sul canale, quindi per me. Oggi infatti voglio fare un video interamente dedicato ai calendari dell'avvento sostenibili. Infatti per quelli di voi che sono entrati in questo video pensando che avremmo aperto insieme dei calendari dell'avvento, che è una tipologia di video che io personalmente adoro, anche se è estremamente consumista, però è anche molto utile per capire che tipo di calendario dell'avvento acquistare in effetti. Non è quella tipologia di video, ma è un video nel quale vi suggerisco 5 tipologie di calendari dell'avvento esiche e sostenibili che potreste scegliere qualora voi aveste la tradizione di comprare un calendario dell'avvento. Quindi prima di iniziare voglio assolutamente dirvi che sì potete farne a meno e sì potete farlo da soli, che è sicuramente una delle cose più sostenibili in assoluto che possiate scegliere per quanto riguarda il calendario dell'avvento. Se volete fare un regalo a qualcuno che può essere stesso un regalo di Natale, oppure se non volete fare a meno e volete supportare delle realtà con le vostre scelte, allora questo è il video che fa per voi. Quindi insomma non è un comprate calendario dell'avvento, ma è un se volete supportare delle realtà questo è il video giusto per farlo. Il primo calendario che voglio farvi vedere è bellissimo, mi è appena arrivato e ahimè non lo terrò perché lo regalerò a mia madre che ama anche lei i calendari dell'avvento e anche lei questa tradizione. E' questo qui, questa meraviglia dell'altro mercato, quindi è un calendario dell'avvento completamente fair trade certificato. Che cosa significa? Per chi non conoscesse altro mercato però non credo, è una realtà italiana che supporta la vendita diretta di prodotti che hanno una filiera produttiva eco e solidale, quindi etica per i diritti dell'ambiente ma anche per i diritti umani. Tendenzialmente questi prodotti quindi sono di una qualità eccelsa, sia da un punto di vista gastronomico, sia da un punto di vista etico e sostenibile. E io sono veramente felicissima perché hanno voluto mangiarmi del loro calendario dell'avvento, è la prima volta che lo vedo, che è bellissimo, credo che anche da appendere sia davvero molto molto carino. E il calendario dell'avvento si apre così, ditemi se non è bellissimo. Allora questo è un piccolissimo spoiler, quindi spero che mamma non stia guardando questo video. All'interno del calendario avete 25, anzi scusate, 24 caselle con infusi, tè e tisani se non sbaglio. Sì perché ci sono anche delle tipologie di tè e ognuno di questi è diverso dall'altro. Penso che soltanto in alcuni casi ci siano dei doppioni, però ce ne sono alcuni anche che sono degli unicum e mi trovo veramente colpita. Sono bellissime le locandine e non lo so, sono stupende. Quindi questo qui è il primo e ovviamente vi lascerò in sovrimpressione anche il prezzo di ciascun calendario. Giusto perché ce l'ho qui da farvi vedere, vi faccio vedere anche un'altra tipologia di calendario che è molto simile a quella di altro mercato perché è il calendario dell'avvento della pucca. Questo mi è stato regalato per il mio compleanno, in realtà, da una mia cuginetta ed è praticamente la stessa cosa. Si apre in questo modo ed escono fuori anche qui tè e tisane di tutti i tipi, sempre con le bustine riciclabili e la B-certificate. Questi non sono fair trade, però sono certificati organici. Il secondo calendario invece di cui voglio parlarvi, che voglio consigliarvi, è un calendario che non posseggo e non ho mai avuto, ma mi metterò delle foto. È il calendario di Eli D.B. Eli D.B. è un'artigiana toscana che io adoro tantissimo, che ho avuto il piacere anche di conoscere dal vivo. Lei non sa che io la sto citando in questo video, ma non vedevo l'ora di farlo perché me l'hanno suggerito. Io non mi ero neanche accorta che lei avesse fatto il suo calendario e quindi vi invito ad andare a cercare il suo sito e anche la sua pagina Instagram per saperne di più. È specializzata nella realizzazione di prodotti artigianali per il ciclo sostenibile, però anche in generale per la cura del corpo. Quindi, per esempio, cura del corpo intendo dire dischetti struccanti, fazzoletti, cose di questo tipo. Quindi, se volete andare a dare un'occhiata al suo store per scoprire quali sono le meraviglie che saranno contenute all'interno del calendario dell'avvento, io spero di potervi mettere intanto qualche foto qui, dovete soltanto che andare a cliccare. Ovviamente io vi lascerò di tutto questo i link nell'info box per poter avere una, diciamo, un link diretto a questi prodotti. Terzo calendario dell'avvento che voglio suggerirvi. Anche questo non lo posseggo e non l'ho mai avuto, però è bellissimo. Si tratta del calendario dell'avvento 100% vegan di Koro. Per chi non conoscesse, Koro è una realtà, se non sbaglio tedesca, che ha una vastissima gamma di prodotti vegani e anche senza glutine. Personalmente mi fa una vola incredibile quel calendario dell'avvento. Infatti questo è più consigliato per quelli che da piccoli preferivano i calendari dell'avvento con la cioccolata, con il cioccolatino invece che con la sorpresina. Io detestavo quelli con i cioccolatini, non me ne fregava niente il cioccolatino, volevo la mia sorpresina. Ricordo che un anno mia madre mi regalò un calendario dell'avvento in cui in ogni casella, perché le faceva lei, in ogni casella mi metteva le gommine colorate profumate. Cioè, il migliore di sempre per chi è appassionatissima di cancelleria. Detto questo, può essere appunto una scelta adatta per questa tipologia di persone, per i più golosi. Siamo arrivati alla metà del video e quindi la parola a voi. Voglio sapere qual è nella vostra infanzia il calendario dell'avvento che non vi dimenticherete mai della vostra infanzia, adolescenza, ma anche in generale della vostra vita, il calendario dell'avvento che ha segnato i vostri ricordi. E se poi avete smesso di acquistarlo è perché, magari anche per un'ottica di sostenibilità. Quarto calendario dell'avvento che non ho mai avuto e non penso che avrò quest'anno perché appunto utilizzerò questo delle tisane, però l'ho trovato davvero bellissimo. È quello della pagina Instagram Vangonchio che mi ha fatto scoprire una delle mie più cari amiche, Sara, ed è veramente bellissimo perché anche questo è un calendario dell'avvento completamente plastic free e siccome Vangonchio si occupa di giardinaggio prevalentemente, il calendario è suddiviso in giorni che contengono semini diversi, semini contenuti in delle bustine personalizzate meravigliose, ma la cosa bella è che non sono soltanto fiori ma ci sono anche piante, ortaggi, fiori edibili e quindi c'è una vastissima gamma, una grande diversità di semi da poter piantare. La trovo anche questa in realtà altigianale, 100% italiana, veramente incredibile da supportare e quindi insomma sono solo che contenta di potervela far conoscere se non ne avete mai sentito parlare. Io le ho scoperti perché due anni fa appunto questa mia amica per il compleanno, per i miei 30 anni, mi aveva regalato un piccolo set di giardinaggio per creare tutto il necessario per fare il mojito e quindi era bellissimo. Ancora non l'ho usato perché non ho un giardino dove posso piantare le cose o comunque non ho grandi piante o vasi in casa perché non arriva molta luce in casa nostra però sicuramente appena mi trasferirò in una casa un po' più grande quando succederà lo farò senz'altro. Quinto e ultimo calendario dell'avvento che voglio assolutamente conservarvi anche questo è un calendario che ho posseduto in passato e mi era stato inviato dal negozio leggero. Questo anche adatto ai più golosi perché contiene una selezione delle loro caramelle che possono essere caramelle gommose, praline di cioccolato, mentine, liquerizie ne hanno veramente tantissime anche questo era un calendario completamente plastic free e riciclabile e secondo me anche riutilizzabile perché le singole caselle di carta io vivevo a Napoli non avevo spazio per conservare tante cose per cui alla fine l'ho cestinato e l'ho differenziato però secondo me se si conservano i numeretti di ogni casella la board di base e ogni sacchetto secondo me si possono riutilizzare di anno e anno mettendo magari delle caramelline diverse anche lì per chi non conoscesse il negozio leggero è stato anzi credo sia in assoluto il primo franchising che ha aperto in Italia che ha solamente che vende tutto sfuso che vende tutto sfuso dalla pasta alle caramelle alle cose per il corpo allo shampoo al balsamo ai detersivi c'è di tutto io sono una grandissima fan il mio spazzolino è del negozio leggero il mio filo interdentale è del negozio leggero il mio sapone intimo è del negozio leggero insomma vi invito a dare un'occhiata alla loro pagina perché sono eccezionali bene io vi ringrazio per essere stati con me per questo video spero che vi sia piaciuto e vi sia stato di stimolo vi abbia suscitato interesse per andare a scoprire queste realtà che anche qualora voi non desideraste acquistare un calendario dell'avvento sono comunque realtà veramente lodevoli da scoprire da sponsorizzare da far conoscere e sapete che una delle cose che io amo più fare con il mio canale è proprio questa mettervi in contatto con realtà che magari non sareste in grado di scoprire se non fosse grazie a ragazzi creator o persone che ne parlano insomma sono contentissima spero che il video vi sia piaciuto vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao